Storia della gabbenella e del gatto che le insegnò a volare. Ci troviamo ad Hamburgo. Quattro gabbiani divorano delle aringhe vicino al mare del nord. La gabbiana Kenga si guarda intorno per cercare un posto dove fare il nido e chiacchiera con un altro gabbiano che è un suo compagno di volo. Lei pensa che mentre le femmine di gabbiano vanno a cercare cibo i maschi stanno a costruire il nido e poi quando saranno nati i piccoli tutta la famiglia di gabbiani potrà volare. Più tardi Kenga sta ancora in acqua e si accorge che gli altri gabbiani si sono volati via. In quello stesso momento inuto ad Hamburgo il gatto nero Zorba sta salutando il suo padroncino che deve andare in vacanza per quattro settimane. Per non lasciare il suo animale domestico da solo verrà un amico di famiglia a fargli compagnia. Zorba ripensa che quando era un piccolo gattino aveva rubato un pesce ed era fuggito dalla cesta, dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle. Un giorno era andato al mercato del pesce e aveva svegliato un uccello che aveva un grosso bozzo sul becco. Era un pellicano che l'aveva ingoiato. Questo pellicano aveva scambiato il piccolo Zorba per una rana nera. In quel momento arriva il bambino che poi diventa il padrone di Zorba che agguanta il pellicano per la gola e subito il gabbiano spute il gattino e così Zorba cresce con questo bambino. Più tardi Zorba saluta il bambino e i suoi fratelli minori e poi guarda dal balcone tutta la famiglia che sta per partire. In quello stesso momento Kanga si trova in una brutta situazione. Una petroliera sta inquinando il mare con il petrolio e alcuni animali marini perdono la vita. Lei, prima di morire, si trova ancora sulla spiaggia e si guarda intorno perché non vedrà mai più la luce. Poi, quando il sole illumina un po' il mare lei si ricorda la storia da quando un gabbiano anziano gli aveva raccontato la storia di Icaro cioè l'uomo che volò vicino al sole con le ali di aquila che era precipitato nel mare. Lei, dopo un po', vola sul mare, sul fiume che bagna Hamburgo. Zorba sta sul balcone da solo a prendere il sole. Al momento, Kanga gli atterra vicino e lui si accorge che lei è un po' puzzolente perché lei dice che è stata sporcata da una sostanza che l'uomo getta nel mare e gli dice che sta per morire. Zorba cerca in vari modi di toglierle via il petrolio dal corpo ma è tutto inutile. Allora lei, prima di andare in paradiso, gli prega tre promesse. Lei sta per deporre un uovo. Le prega di non mangiare l'uovo, di covarlo finché non sarà nato il piccolo e di insegnargli a volare. Allora Zorba va a cercare aiuto mentre lei depone l'uovo, un po' sporco, di petrolio. Zorba, prima di andare, si trova nel giardino della sua casa. Si controlla che in giro non ci siano auto o cani e alla fine parte. Arriva al ristorante di Cuneo vicino al mare ma là due gatti randaggi lo prendono in giro dicendogli che è un ciccione. Allora lui tira fuori un artiglio e loro si arrendono. Poi giunto al ristorante di Cuneo Zorba chiama segretario un gatto cameriere romano che aveva solo due baffi e gli chiede di parlare con Colonnello cioè il direttore del ristorante. Allora segretario lo accompagna da Colonnello. Subito Zorba racconta a Colonnello e segretario che Kanga, la gabbiana, sta per morire. Allora i tre gatti vanno a casa di Diderot il gatto di Henry, un vecchio marinaio. Allora il marinaio Henry che era in giro qualche po' tutti i giorni stava fuori per lavoro allora aveva comprato tante cose all'estero oggetti belli aveva un bazar con tre case e aveva due mascotte Mattia lo scipazzè e Diderot il gatto grigio. Appena entrano nel bazar Zorba, Colonnello e segretario incontrano Mattia questo scimpanzè ubriaco e chiede i biglietti. Allora Zorba mostra l'artiglio al povero scimpanzè che ubriaco si lamenta dell'artiglio. Dopo un po' arriva Diderot che spiega che i topi di Fogna si erano mangiati una pagina dell'Atlante in cui il Madagascar era andato per tutto e Colonnello nel ristorante di Cuneo si era accorto che i topi di Fogna avevano rosecchiato alcuni tappi di spumante di Cuneo. Allora Zorba, Colonnello e segretario raccontano la storia a Diderot e spiega e Zorba dice chiede un antidoto per come togliere il petrolio. Allora Diderot cerca in qualche enciclopedia la benzina. Allora i quattro gatti fuggono dal bazar mentre Mattia si sta alla scena e si beve una birra. Finalmente allora finalmente giungono a casa di Zorba ma ahimè era troppo tardi Kanga è morta ma aveva già deposto l'uovo. Zorba non sa che fare con l'uovo che Kanga ha deposto e poi spiega a Colonnello segretario di Diderot le tre promesse che aveva fatto a Kanga alla gabbiana. Allora i tre gatti si allontanano per cercare un modo e Zorba pensando che i due gatti randacci che aveva incontrato quella mattina non lo vedano perché lo potrebbero deridere e lui rimane con l'uovo tra le zampe posteriori e la gabbiana morta. Quella notte Zorba Zorba Diderot segretario e colonnello fa nel funerale di Kanga e miagolano una canzone da Dio se giungono tutti i gatti del quartiere ma anche i cani le rane le rondini i canarini e anche Mattia lo scimpanzè per dare l'ultimo addio alla gabbiana. Dopo la morte di Kanga Zorba si prende cura dell'uovo giorno e notte poi cerca di guardare attraverso l'uovo cosa c'è ma non trova nulla nei giorni in cui l'amico della famiglia di Zorba si prende cura di lui perché il bambino che si prende cura di Zorba è in vacanza Zorba nasconde l'uovo tra i vasi del balcone ma un giorno Zorba entra in cucina e rompe una portiera allora l'amico di famiglia si arrabbia e lo caccia via Zorba entra nella camera del suo padroncino che è partito e aspetta che l'amico di famiglia se ne va qualche ora dopo nel cuore della notte Zorba si sente solo perché l'amico di famiglia è andato via ma a un certo punto sente l'uovo vibrare sul suo corpo Zorba si sveglia e vede apparire dal guscio dell'uovo una punchina un'arancione apparire e sparire e si accorge che è nato il pulcino e lì Zorba appena vede la piccola gabbianella si chiede cosa poter dare al cucciolo di gabbiano cosa potrebbe mangiare prova con una mela ma la mela è troppo dura per il piccolo allora prova con una patata o dei croccantini ma niente allora pensa di Zorba decide di prendere qualche mosca e la dà al pulcino di gabbiano e il pulcino si sente felice e il pulcino chiede ancora ancora chiede di voler ancora mosche allora Zorba va a prendere alcune mosche e persino un ragno ma in quel momento appaiono quei due gatti che il giorno prima avevano deriso Zorba per il suo aspetto e gli chiedono di iscriversi a ginnastica ritmica ma Zorba rifiuta allora Zorba vede il piccolo gabbiano mangiare mangiare le mosche e scacciare via il ragno e più tardi il pulcino si addormenta sul corpo di Zorba in quello stesso momento colonnello segretario di derroa arrivano e vedono il piccolo gabbiano che che aveva scambiato Zorba per la sua mamma allora Didero pensa che il pulcino non abbia mangiato nulla e allora colonnello ordina al povero segretario di prendere un po' di pesce e così il povero segretario non ebbe altra scelta di farlo il giorno seguente Zorba e il pulcino stanno sul balcone di casa ma da sotto il povero Zorba vede l'amico di famiglia arrivare e nasconde il piccolo gabbiano sotto uno dei vasi e lo nasconde da sotto il suo corpo per non farlo vedere l'amico di famiglia non capisce e lo chiama pazzo di un gatto più tardi quando l'uomo è andato via Zorba si fa la pipì addosso e la fa nella litiera e poi la copre e poi ripensa a quello che gli ha detto l'amico di famiglia pazzo di un gatto più tardi sente il piccolo gabbiano che sta per essere divorato da alcuni da due gatti che erano gli stessi gatti che avevano deriso il povero Zorba allora Zorba parte all'attacco e prende i due gatti maleducati a graffi e morsi i due gatti si pentono e Zorba ordina quei due di andarsene via così i due gatti scappano via e non tornarono più non torneranno più Zorba si accorce che la sua casa non è un posto sicuro per il piccolo gabbiano così lo porta al bazar di Harry dove i suoi tre amici lo aspettano una notte Zorba Zorba sta discutendo con colonnello segretario di Derot mentre Mattia sta sta controllando la situazione ma mentre i gatti stanno chiacchierando discutendo il piccolo gabbiano guarda degli uccelli impagliati che erano falchi aquile merli merli pappagalli pappagalli galli e pavoni ma all'improvviso il piccolo gabbiano viene attaccato da un animale dagli occhi rossi che non era per nulla impagliato e sa che animale era? un topo di fogna un malvagio topo di fogna che voleva divorarselo il piccolo gabbiano grida aiuto e appena Zorba arriva il topo alla vista del gatto si nasconde in un grosso buco nel muro Zorba chiede a colonnello di parlare con i topi di fogna Zorba grida al topo di fogna voglio vedere il tuo capo e il topo grida sono io il capo dei topi allora e Zorba grida se tu sei il capo allora tu e gli altri topi valete meno degli scarafaggi allora il topo grida il capo ti riceverà nello scantinato delle conchiglie c'è una entrata così Zorba entra nello scantinato del bazar e lì attraverso i topi i tubi della fogna non si accorge che i topi di fogna che stanno attraversando un grosso tubo graffiato rosicchiato e in quel momento si trova faccia a faccia con il capo dei topi un grosso brutto topo pieno di di graffi e cicatrici e grossi artigli comincia a deriderlo assieme agli altri topi che hanno gli occhi nascosti nell'ombra e Zorba dice di lasciare in pace il povero pulcino e allora il topo pensa che i gatti sono pazzi visto che hanno un piccolo gabbiano e chiedono di divorarselo e dice che sono anche degli egoisti e che non se lo dovranno e Zorba dice che non è da mangiare e spiega al topo che era stato costretto a spianare vari altri animali e allora il capo dei topi decide di di ridurre quel gattone a un purè di gatto allora Zorba salta addosso al topo e dice che non farà non lo farà diventare pure di gatto e il piccolo gabbiano neanche pure di pulcino allora Zorba ordina al ratto e agli altri topi di fogna di girare vicino al mercato solo di notte e di non attaccare mai il pulcino così Zorba se ne va lasciando sia alle spalle quei brutti topi che lo guardano con uno sguardo di odio con quegli occhi rossi il giorno seguente arriva sopra a vento un gatto color miele che indossa un mantello e che tutti chiamano gatto capitano quando arriva al bazar Zorba colonnello segretario e diderò raccontano la storia a sopra a vento della gabbiana che muore e dell'uovo allora sopra a vento chiede di vedere il pulcino e colonnello chiede a sopra a vento di capire se il piccolo gabbiano è maschio o femmina appena lo esamina esamina il piccolo gabbiano che dorme dopo aver mangiato un po' di pesce che il segretario aveva dato scopre che il piccolo gabbiano è una femmina e allora visto che avrà avuto un po' di fortuna a crescere con i gatti verrà nominata sfortunata e così Zorba colonnello segretario diderò e sopra a vento nominano la piccola gabbianella sfortunata sfortunata che cresce in questo bazar che si finge impagliata tra gli altri uccelli del bazar mentre il bazar è aperto ma ogni sera quando Harry tornava a casa lei se ne andava via e poi derò chiedeva mostrava le tecniche di come volare ma fortunata voleva essere un gatto un giorno mentre stava in giro Mattia lo scimpanzé la minaccia dicendole che i gatti divorano gli uccelli e allora i gatti si accorgono dell'assenza della povera gabbiana e Zorba la ritrova e lei racconta a Zorba quello che Mattia le aveva detto e lui le spiega che non avevano potuto aiutare sua madre ma avevano potuto aiutare solo lei e che non dovrà ascoltare quello brutto scimpanzé antipatico e alla fine dopo un po' fortunata col tempo cerca di migliorare le sue tecniche di volo ma poi un giorno Zorba chiede di poter parlare un po' con gli esseri umani ma gli altri gatti spiegano che è pericoloso perché un animale parlante non può parlare con l'uomo potrebbe essere pericoloso così quella stessa sera colonnello spiega a Zorba che può farlo così pensano alcuni umani che possono capire comprendere provano a correre il cuoco del ristorante ma non può andare non va non si intende di volo neanche il marinaio nemmeno il cameriere il diere del ristorante e nemmeno il bambino di Zorba che è in vacanza ma forse hanno pensato al padrone di Bubulina il poeta così Zorba va a trovare Bubulina Bubulina la gatta che chiede a lei di parlare col suo padrone che sta a lavoro ma lei rifiuta perché lui sta lavorando e ascoltando Vivaldi le quattro stagioni allora lui chiede alla gatta se piace il rock in quel momento mentre lui scrive a una macchina da scrivere il poeta si accorge che si accorge di Zorba che pizzica la coda come un contrabbasso e poi pensa che a Bubulina la musica di Zorba non piaccia allora Zorba parla e il poeta rimane un po' sconvolto ma alla fine lo comprende e subito Zorba racconta Bubulina al poeta la storia di Kenga e di Fortunata ma in quel momento si avvicinano delle nuvole nere nel cielo il cielo notturno e il poeta racconta una poesia di Bernardo Aztaca i gabbiani allora Zorba e il poeta si vedranno al bazar di Harry quella stessa notte sotto la pioggia il poeta si avvicina al bazar ma Mattia all'interno rifiuta questa richiesta e spiega che l'orario d'apertura del bazar va dalle 9 della mattina alle 6 del pomeriggio e che è il regolamento allora i gatti cercano in tutti i modi di capirlo ma questo rifiuta e Dideroy grida a Mattia che è un'orribile scimmietta allora il segretario vede il poeta arrivare e Zorba parta l'attacco il poeta sente le campane della chiesa di San Michele rintoccare la mezzanotte al momento sente il gatto rompere il vetro della finestra che per fortuna riesce ad entrare senza preoccuparsi delle ferite che si è fatte al carano così i gatti lanciano la gabbiana al poeta e lui l'afferra assieme a Zorba e allora Zorba Mattia grida agli altri gatti che sono orribili e sono canaglie e banditi e il segretario grida che se l'è voluta e che Harry penserà il giorno dopo che era stato lui a rompere il vetro e il colonnello si arrabbia perché il segretario gli ha tolto le parole di bocca e subito il colonnello segretario di Dideroy e sopravvento vanno a vedere Fortunata che volerà dalla chiesa di San Michele così appena giunti a San Michele Zorba il poeta e Fortunata vedono tutta Hamburgo vista dall'alto Fortunata senta la pioggia e scopre che le piace e così Zorba le dà una spinta ma quando si accorgono che caduta giù con un sasso si sporgono e vedono la gabbiana volare sopra Hamburgo e sorvolare tutto il parcheggio gli alberi delle navi i palazzi e lei le Zorba si dicono addio e subito il poeta e Zorba sono felici appena il poeta si allontana Zorba e Fortunata si lasciano con la speranza che un giorno le loro vie si sarebbero rincrociate di nuovo di nuovo Grazie a tutti.